che dà a mangiare a tante persone, il Catania è una società importante e qua c'è gente che si alza la mattina soltanto attacca a testa e a sinistra. Ora io non sto criticando le critiche all'indomani della estromessione dai quei altri. Noi abbiamo puntato a vincere, purtroppo non ce l'abbiamo fatta, ci sta che questo non va, vi si è andato male, vi si è andato, le analisi quelle sono legittime, le dobbiamo fare prima prima, però io faccio fare una riflessione, l'anno scorso all'inizio quando abbiamo completato la squadra, vediamo quanti leone ci sono, quanti di voi non avrebbero giugato sul fatto che il Catania avrebbe ammazzato il campionato con l'organico che aveva? Purtroppo il calcio è anche questo, il calcio c'è che se pensato viene da noi non becca male, se pensato va fuori del mondo, c'è il campionato, il calcio è fatto anche di queste cose, siamo affidati noi, come si suol dire, di mezzo e abbiamo pagato il rendimento con l'ottimola degli giocatori che, pensavamo, potessero dare chissà che cose. Senza considerare, noi in tre anni, signori, noi abbiamo preso questa società, 55 giocatori, 55 giocatori, spendendo 8, 8, 55 giocatori.